Per la cottura al microonde, contenitore apposito, acqua, aceto di vino bianco, posizionare le cime all'interno del contenitore, anche i gambi, due cucchiai di aceto, un po' di acqua, al microonde 800 watt per 10 minuti, apri solo quando si sarà raffreddato totalmente. Come cuocere il cavofiore? Metti a bollire dell'acqua, aggiungi del sale, copri. Nel frattempo organizza un contenitore a chiusura ermetica, come può essere questo, oppure questo. Consiglio della nonna, se devi versare dell'acqua bollente all'interno di un contenitore di vetro, ricordati di mettere un oggetto di metallo al suo interno, questo eviterà la spaccatura del vetro. Disponi il cavolfiore al suo interno, anche i gambi. Versa l'acqua bollente all'interno del contenitore. Chiudi ermeticamente, prima di riaprire attendi il suo raffreddamento. Porta a ebollizione l'acqua. Quando l'acqua bolle, verso il cavolfiore. copri con un coperchio dove si possa versare l'aceto. altrimenti puoi utilizzare un piatto. Copri e versa dell'aceto sul coperchio. Non sentirai odore di cavolfiore, perché l'aceto fungerà da mangia odori. una volta cotto, spegni e lascia raffreddare. copri con un coperchio. copri con un coperchio. Aggiungere un coperchio. Aggiungere un coperchio. Aggiungere un coperchio. copri con un coperchio. Aggiungere un coperchio.